Riot Games l'altro giorno ha parlato del fatto che vogliono migliorare i bot che ci sono presenti su League of Legends nella modalità Co-op vs. AI e sincero, da quello che promette questo articolo, le cose sembrano andare in una bella bellissima direzione sia per i giocatori novellini, quelli che possono essere introdotti, oppure quelli che giocano da tanto ma che ancora non sono particolarmente bravi a League of Legends che anche per noi giocatori più esperti, più veterani che giocano da veramente veramente tanto perché l'intento di Riot è proprio alzare di tanto il livello dei bot qua parlano di come adesso vogliono andare a migliorare tutto il sistema qual è la storia dei bot su League of Legends come per ora non abbiano fatto mai grandi aggiornamenti gli ultimi aggiornamenti risalcono al 2014 rendiamoci conto sono nove anni che sono passati ormai su un gioco che ne ha 14 non è stato proprio il massimo nel corso degli ultimi mesi abbiamo rafforzato i nostri investimenti noi bot benché non avessimo mai disinvestito nel progetto ci credo poco, detta sinceramente, visto che come dicevamo prima non hanno investito per nove anni in migliorie dovevamo capire quale fosse l'approccio più dato sia all'all di oggi che a quello di domani e questa è una cosa positiva perché almeno si rendono conto che non solo ci sono problemi oggi ma devono anche pensare a lungo termine che è sempre stata una pecca di Riot su League of Legends pensare molto al breve termine e poco a lungo termine Liga a 14 anni dovete pensare al fatto che questo è un gioco che durerà due decadi almeno è molto chiaro che molti di voi volevano un'esperienza simile al gioco regolare ma meno stressante con un posto in gioco più bassa per fare pratica e migliorare in particolare insieme ad amici che hanno appena iniziato a giocare sì perché spesso volentieri che cosa succedeva? quando tu giocavi con gli amici che hanno appena iniziato a giocare a League o quant'altro si trovavano contro delle situazioni strane cioè cover se hai i bot erano due in top, uno in mid e due in bot non proprio la roba più normale del mondo ecco e quindi poi dovevi costringerli a giocare normal e quindi il livello di competizione diventava molto più alto ed era qualcosa di totalmente diverso da quello che avevano testato fino ad allora i singoli giocatori quindi un po' un peccato e adesso vedere che almeno si rendono conto che la direzione deve cambiare anche nettamente almeno dovrebbero, speriamo, andare in una direzione giusta i nostri dati mostrano che a prescina quante partite cover se hai un giocatore ha disputato prima di entrare in una coda pvp le sue probabilità di vittoria non aumentano per questo dobbiamo dare ai giocatori uno spazio per godere degli aspetti strategici ed in squadra di lol in un ambiente meno stressante e con livelli di abilità più eterogenei oltre a creare nuovi bot riteniamo che l'aggiornamento di quegli stati sia un modo per ampliare le capacità di lol dare ai nostri sviluppatori nuovi strumenti e aiutare i giocatori a perfezionare le proprietà in un ambiente pensato per l'apprendimento visto che probabilmente non giocherete contro il Dario siamo in corsi superiori a molte spesse partite pvp che questa è una cosa importante il fatto che dicano l'aggiornamento di quegli stati sia un modo per ampliare le capacità di lol perché pensatela così se tu crei dei bot che si esistono soltanto a modalità cover se hai e sono tipo mediocre ma servono semplicemente per dire ok abbiamo una modalità cover se hai bella non investi in strumenti o sistemi che permettono poi di essere riutilizzati altrove anzi lo rendi molto difficile al contrario adesso League sta proprio cercando di dire ok facciamo dei bot da zero ma di questa intelligenza artificiale che andremo a creare tanto vale farla abbastanza riutilizzabile così che in futuro possiamo usarlo magari per modalità alternative per modalità pwe per modalità diverse da quello che è League of Legends attuale cosa che mi trova particolarmente d'accordo perché Cristo Santo fate delle modalità anche con i bot visto che ne abbiamo avute di fighe in passato Doom Bots of Doom era una delle più divertenti in assoluto e vedere meno impegni in quel punto è una delle cose su cui la gente ha più protestato da fatto che gli eventi non avessero roba figa adesso stanno provando di nuovo a farlo con il nuovo evento 2v2v2v2 che esce quest'estate e già quello è un buon inizio ma non modalità pvp le modalità pvp ci piacevano su lol riportatele per favore abbiamo vari obiettivi principali per questo progetto tra cui fornire un'esperienza migliorata con i bot che rispecchi il gameplay ordinario di League of Legends e quindi la prima cosa che farò notare è bot in grado di pulire la giungla dio grazie finalmente quindi almeno diventano utili questi bot cioè puoi giunglarci contro puoi fare pratica a giunglare che serve serve tantissimo ai player inizialmente capire come si giungla capire che c'è un jungler dall'altro lato capire che si può essere gancati è un modo molto più complesso di giocare da quello che è in cover se hai attualmente quindi grazie a questo è tipo un enorme upgrade un'area di squadra che aiuti i bot a collaborare in modo più strategico e coeso questo mi intriga perché il potenziale di poter utilizzare i dati dei giocatori su quello che è stato in passato il meta e quello che è il meta attuale permette al sistema di diventare molto intelligente quindi vedere che può anche lavorare di squadra mi intriga cioè vedere quanto potenziale potrebbero metterci questi bot cioè magari uno dice vabbè i bot non possono diventare troppo difficili e se un giorno i bot potessero diventare forti poi tipo seleziona la difficoltà ah voglio giocare con un match in cui i bot sono a livello diamond ah voglio giocare in un match in cui i bot sono a livello challenger per capire quanto più forti di te sono sarebbe una cosa fighissima che io tipo apprezzerei un sacco veramente veramente un sacco bot che sappiano reagire anche ai cambi nel meta questo mi incuriosisce immagino che dipenda principalmente per build e run path questa cosa ma è difficile sbilanciarsi in merito però vedere già il fatto che riescono a far pulire una giungla da solo e che pulisca meglio di certi jungle che abbia visto a bronzo e silver quando la gente mi diceva di spettarli è tipo yeah nice good ottima cosa creare un modo migliore per riparare a giocare all'ora di migliorare meno stressante rispetto a pvp ampliare la riserva dei campioni immagino estendendola a tutti bot che giocano come una squadra che è un'ottima roba bot capaci di migliorare per essere all'altezza di abilità dei giocatori che vogliono diventare più bravi questo è intrigante e mi fa pensare sperare che ci sia tipo uno slider tipo quanto voglio diventare forte quanto è difficile giocare contro questa gente good shit poi alla fine arrivano verso la fine dell'articolo dicendo sviluppare la tecnologia dei bot per renderla modulare sostenibile e ampliabile in modo da dare ai sviluppatori elementi su cui farleva per divertire i giocatori cioè nuove modalità di gioco proprio detto esplicito quindi cazzo sì comportamenti modificabili bot cazzo sì al quadrato e strumenti che permettono di creare rapidamente nuove versioni finalmente qualcuno pensa alla sostenibilità a lungo termine League of Legends grazie grazie alleluia era necessario non entriamo troppo in aspetto tecnico ma vogliamo parlare un po' del nostro approccio vabbè qua spiegano proprio la parte più tecnica quello che è l'albero del comportamento dei singoli campioni che ci saranno all'interno e come sarà sviluppato e lavorato innanzitutto vogliamo circolarci ricevere il vostro feedback sulla direzione che abbiamo deciso di intraprendere questi bot saranno piuttosto semplici all'inizio e potrebbero non sembrare particolarmente notevoli dal punto di vista di un buon giocatore ma è per questo che per il momento saranno destinati al PBE vogliamo che approcciarsi allo diventi più facile quindi non esitate di invitare i vostri amici che non hanno mai provato il gioco resteranno su PBE per due settimane nella seconda metà dell'anno il che vuol dire direttamente da luglio in poi può essere luglio come può essere ottobre come può essere settembre cioè molto random dire seconda metà dell'anno ma immagino che sia per dire ok non siamo ancora sicuri di quando usciranno l'idea è probabilmente farlo uscire per la season 2024 con svariati test durante la seconda metà dell'anno stiamo anche lavorando molto al back end per supportare i nostri obiettivi quindi vogliamo capire quali aspetti dei bot vi piacciono e quali possono essere migliorati così da poterli sviluppare in modo migliore per supportare i giocatori sviluppatori carino ma questo alla maggior parte delle persone non gli significa niente tipo yeah cosa vi piacerebbe vedere da parte dei bot io voglio quello che avete già promesso partiamo da quello vedremo mi piace la direzione mi piace quelli che sono anche gli obiettivi a lungo termine il fatto che vogliono aprire più opportunità a League of Legends a quello che può essere come gioco perché è un gioco che per quanto venga elaborato evoluto e quant'altro ha ancora tante robe troppo vecchie una cosa che viene spontanea a pensare ah ma se rifaceste a zero il gioco forse sarebbe meglio perché con programmazione tecniche nuove di programmazione che ci sono potresti fare così tanto di più partendo da tabula rasa ma la direzione sembra quella giusta incrociamo le dita e speriamo bene ma ditemi che cosa ne pensate nei commenti signore e signori questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo e noi ci vediamo e noi ci vediamo Grazie.